Si può sbagliare ma si può e si deve rimediare, così l'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini durante un sopralluogo alla casetta di legno a Sant'Orso, prima rovinata da alcuni ragazzi e poi ricostruita sempre da loro. All'interno sono già stati posizionati i primi volumi donati dalla Mediateca Montanari, dal Cremi e dalla città delle bambine e dei bambini. Fano, dichiarato l'assessore, sarà tanto più bella se chi l'abita vive nel rispetto di se stesso e del prossimo. Ieri è stata posizionata questa casetta di legno nel parco di Sant'Orso, come saprete in questo parco qualche tempo fa alcuni ragazzi avevano dato alle fiamme una vecchia casetta di deposito degli attrezzi che era proprio qui. Questi ragazzi sono stati individuati attraverso le indagini della polizia locale, è iniziato con loro e con le loro famiglie un percorso per responsabilizzarli sul loro gesto. È stato un percorso importante, sicuramente si è dovuto intervallare con il Covid, quindi è stato anche più lungo di quello che avevamo inizialmente previsto, ma è stato comunque un percorso che possiamo definire di consapevolezza e in parte anche rieducativo, molto importante perché i ragazzi e le loro famiglie hanno restituito alla città e al quartiere di Sant'Orso questo manufatto in legno. Questo è un bel esempio per la cittadinanza, ha proseguito Cucchiarini. Il progetto, frutto di un lavoro di squadra, è stato guidato dalla polizia locale comandata da Narita Montagna. La casetta era stata distrutta con i fatti di Halloween, poi di conseguenza essendo questi legni accatastati a lato sono rimasti lì un po' di tempo e alcuni ragazzi gli avevano dato fuoco. Con le indagini siamo riusciti a risalire a questo secondo gruppo di ragazzi e con loro è stato bello poi poter interagire anche con le famiglie, c'è stata una risposta perché le sanzioni non sono soltanto quelle poi amministrative pecuniarie ma sono anche quelle poi di restituire un po' di senso civico e quindi di rispetto sociale e ripristinare quanto di bello ci può essere così in una zona e in un quartiere.